Ciao a tutti, allora oggi è il 31 ottobre e se tutto va bene dovrei riuscire a fare il book crossing che continuo a chiamare book crossing, non so per quale motivo cioè dovrò lasciare due libri in due angoli della città e nella speranza che qualcuno li raccolga e li legga e non li getti via come carta straccia in tutto questo spero di non scogliarmi visto che ci sono 28 gradi, infatti sono maniche corte, si abito in Africa e soprattutto spero di non morire di vergogna visto che dovrò autofilmarmi spero che l'esperimento vi piaccia, incrociamo la vita per me e basta, vediamo come va grazie a tutti grazie a tutti missione compiuta con successo grazie a tutti grazie a tutti